Ancora rifiuti per le strade di Torre del Greco. Come ogni lunedì mattina ormai la città risulta invasa dei rifiuti. Cassonetti straripanti, sacchetti abbandonati sui marciapiedi, cumuli che arrivano ad occupare strade e vicoli. Con le nostre telecamere abbiamo mostrato la situazione di degrado che regna in zona Porto, fra via Fontana e Corso Garibaldi. Tuttavia, dalle segnalazioni dei torresi risultano situazioni simili in tutta la città e soprattutto nel centro storico. In un post su Facebook il consigliere Luigi Mele ha ricordato che nella giornata di ieri si conferiva solo l'umido e la carta, puntando il dito contro i torresi per aver gettato anche sacchetti indifferenziata. Infatti la maggior parte dei rifiuti non raccolti sono composti da sacchetti immondizia di ogni tipo, quindi probabilmente sono stati tanti i cittadini che non hanno rispettato i giorni instabiliti. Figurano come al solito ingombranti come scarti di ufficio, mobili ovario e immancabili materassi abbandonati. Tuttavia fra questi c'è anche tanta carta e sacchetti di umido evidenti, ad esempio cartoni di pizza, talvolta persino pieni ben visibili. Parte di questa situazione è ovviamente colpa dell'inciviltà, ma è indecoroso che la città resti sporca fino alla tarda mattinata, anche considerando il caldo di questi giorni che porta ai rifiuti a rilasciare salazioni nocive per tutti gli abitanti. Una cartolina che le aree storiche della nostra città non meritano. Basta considerare che molti cumuli campeggiano proprio davanti al Palazzo Baronale. Ricordiamo che tale situazione si ripete quasi ogni lunedì mattina. Inoltre, pur volendo attribuire tutte le colpe all'inciviltà, a maggior ragione è necessario disporre un sistema di controllo valido che inibisca definitivamente questi comportamenti.